Mi è venuta una splendida idea per passare inosservati. Seguimi. Aspetta. Sala dell'incoronazione. Dove sarò? Ehi, voi! E questi? Marshmallow! Sono buoni, ne vuole un po'? Comunque voi, dovreste essere già al di là. Dove? A questi stagisti. Alex! Superato al terzo corridoio sulla sinistra! Non potete sbagliare! Siamo forti insieme anche da lontano.